Prime comunicazioni ufficiali per i risultati delle elezioni nello Zimbabwe. Il partito al potere, il ZANU-PF, ha avuto la maggioranza dei seggi in Parlamento. Lo ha reso noto questo mercoledì la Commissione elettorale. I risultati ufficiali definitivi, insieme al nome del nuovo presidente, sono attesi soltanto entro sabato 4 agosto. Appena annunciati i primi risultati, davanti all'hotel di Harare, la capitale dove era riunita la Commissione elettorale, oltre a un centinaio di sostenitori del leader dell'opposizione, il quarantenne avvocato Nelson Ciamisa, sono scesi in piazza per protestare, anche in maniera tutt'altro che pacifica, contro i presunti brogli e ritardi volontari nello scrutinio dei voti. Il partito del presidente uscente Mangago ha ottenuto 109 seggi contro il 41 dell'MDC Ciamisa. Sui presunti brogli indaga il capo degli osservatori dell'Unione Europea, Elmar Brock.